Fiumi d'acqua, fango e detriti con allagamenti e disagi a Catanzaro e nell'Interland a causa di un forte acquazzone che si è abbattuto ieri sulla zona del capoluogo calabrese. Le precipitazioni intense hanno interessato in particolare la località periferica di Cavita e soprattutto la zona confinante tra i comuni di Tiriolo e Settingiano. Dalla località Pratora di Tiriolo è caduto a valle un fiume di materiale trascinato a valle che ha invaso anche la sede e alcuni sottopassi della superstrada 280 dei Due Mari nella zona di Martelletto. Uno di questi sottopassi è stato sommerso dall'acqua e dalle pietre, non si segnalano danni alle persone. Sul posto, soprattutto negli svincoli di San Rottino, hanno operato i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro e i volontari, presenti anche i mezzi dell'ANAS per il ripristino della viabilità. In azioni anche ruspe e mezzi meccanici attivati dai comuni di Tiriolo e Settingiano. Ralentamenti sulla superstrada che collega il capoluogo calabrese alla mezzia terme con gli svincoli in entrata e uscita da San Rottino chiusi. Di saggi per allagamento anche sulla strada statale 106 nella zona di Sella Marina.